Alla presentazione dei nuovi vertici di Arezzo Fiere c'è stato un passaggio primario importantissimo perché la Camera di Commercio ha deliberato l'aumento di capitale. Sì, questa mattina per essere concreti abbiamo davvero contribuito a risolvere i problemi di Arezzo Fiere congressi e abbiamo fatto l'aumento di capitale che è stato votato all'unanimità da tutti i membri di giunta e quindi siamo soddisfatti e speranzosi che questo ovviamente per quanto riguarda Arezzo Fiere non è un traguardo ma direi un punto di partenza. Quindi inizia un nuovo capitolo? Inizia un nuovo capitolo con ottimismo e soprattutto con la voglia di fare e di lanciare segnali positivi perché questa città ne ha davvero bisogno. Grazie a tutti.